Amici di Radiofonica, siamo qui vicinissimi al Cinema Postmodernissimo, dove questa sera Valerio Mastandrassi non verrà investito da questa macchina, sarà ospite d'onore della cerimonia di premiazione. Grazie per essere qui con noi. Prego, grazie a voi, grazie. Da poco si è terminata la 72esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove lei ha presentato un film di cui produttore, aiuto regista, l'ultimo di Claudio Caligari. Aiuto regista no, c'era un vero aiuto regista, sì, diciamo che l'ho coprodotto insieme a un'altra masnata di gente, sì, è il terzo film di Caligari, Non essere cattivo si chiama. Purtroppo è scomparso da pochi mesi l'autore di Amore Tossico e L'odore della Notte nel quale lei recitava. Che ricordo ha di Caligari? Secondo lei perché dovremmo vedere il film e Non essere cattivo? Ecco, meglio la seconda, che la prima è sempre difficile rispondere. Perché fa parte di un modo di fare cinema a cui non siamo abituati, neanche noi, io, forse tu meno che me, nel senso come generazione parlo. Perché il cinema di Caligari era cinema, ha lo stato puro, quindi, e questo film ha mantenuto questa, questa intenzione. E anche perché, poi Claudio ha fatto soltanto tre film, questo è il terzo di una trilogia. Per tanti motivi ha visto questo film, anche perché ha un'anima per come è stato realizzato, le condizioni e tutto quello che, insomma, a quanto pare da quello che la gente dice quando esce da là, non tutta, ovviamente, si percepisce. È un cinema nostro che non si fa più. Spero che noi, da questa esperienza, io, insieme a chi ha lavorato a questa avventura, riusciremo a farsi che sia l'inizio per reinterpretare il cinema italiano in una certa maniera. Non spero, credo che ci riusci ciò. Noi ce lo mettiamo come obiettivo. Una bella occasione per interpretare il modo di fare il cinema potrebbe essere la regia della profezia dell'armadillo, tratto dal fumetto di Zero Calcare. Ci può dare qualche novità sul film? Se si farà, no? Come? No, non vi posso dire nulla. Ma non perché c'è un mistero sotto. Perché comunque stiamo capendo un sacco di cose. Mi dispiace, avrei voluto rispondere, ma non posso. Ma non posso perché non so che rispondere, quindi... Allora l'occasione potrebbe essere di dirci quali sono i suoi progetti futuri, se residerà in qualche film di prossima uscita, oppure se la vedremo ancora a teatro. No, a teatro sicuramente no. No, ma non perché, insomma, dopo che lo faccio devono passare 3-4 anni di... un po' come l'enzima... non so se è una mitologia quello che fa dimenticare il dolore del parto, capito? Che diceva ripartorisci perché l'hai scordato. Non lo so, io devo far passare un po' di tempo. Sì, poi sono un attore e quindi ho rifatto l'attore, un film di Bellocchio st'estate, che non so quando uscirà. Però uscirà il film di Zanasi, che abbiamo fatto un anno e mezzo fa, che Zanasi sempre un anno e mezzo ci mette prima di finire il film, che uscirà credo intorno al 26 novembre e forse sarà anche presentato come evento al Festival di Torino, non lo so. Però so che esce quel giorno lì. Si sa già il titolo? Sì, e ti dico che appena dico il titolo devi salutare perché è bellissima come uscita. La felicità è un sistema complesso. Grazie mille.